Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, in Veneto nel 2018, ultimo anno in cui i dati sono disponibili, sono stati evasi più di 8 miliardi e mezzo di euro. Significa che per ogni 100 euro di gettito versato all'erario da cittadini e imprese, quasi 13 sono rimasti nelle tasche degli evasori. Ma se 8 miliardi e mezzo di euro di evasione fiscale possono sembrare tanti, in Italia è la cifra più bassa d'evasione dopo Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige e Lombardia. Insomma, rispetto al resto del paese, il Veneto ha un'evasione fiscale di dimensioni piuttosto contenute, si potrebbe dire in linea con la media dei principali paesi europei. In Veneto l'evasione fiscale sfiora i 9 miliardi di euro all'anno. In termini assoluti è una cifra sicuramente importante, ma se rapportata al valore aggiunto regionale la dimensione è molto bassa, è molto contenuta. Il Veneto infatti è tra la realtà dove la fedeltà fiscale è la più elevata d'Italia. Secondo il DEF, nel 2022 lo Stato incasserà quasi 40 miliardi di imposte e contributi in più rispetto all'anno scorso. Di questi almeno 5 saranno versati dai Veneti. Si tratta di un incremento riconducibile in parte all'aumento dell'inflazione, secondo le previsioni circa il 6%. Insomma è in arrivo la tassa occulta dell'inflazione e per questo, secondo la CGA di Mestre, sarebbe auspicabile che il governo restituisse una parte di questo extragettito reintroducendo il fiscal drag. Per contrastare questa piaga sociale ed economica, oltre a intensificare l'attività di controllo e di contrasto nei confronti di chi evade, bisogna abbassare le tasse. Ad avvantaggiarsene sarebbe anche il fisco che sicuramente incasserebbe di più. Insomma, bisogna pagare meno per pagare tutti.